Eccoci qua, oggi continuiamo con lo sviluppo del cartamodello Allora, dopo aver appunto tagliato tutti i vari pezzi e dopo averli piegati come ho fatto vedere nei video precedenti dovremmo avere tanti pezzettini già piegati che appunto ci aiutano molto a capire un pochettino come si sviluppa il tutto per non perdersi Allora, l'importante per iniziare prima di incollare non sono incollare i pezzettini così piccoli sono da mettere tutti da parte ma i pezzi grossi sono da iniziare a incollare nei punti di giunzione Ci sono dei punti molto grandi, ad esempio come questo pezzo qui, che sono tutto un pezzo unico e che bisogna prepararli appunto prima come in questo caso le varie pezzettini che permettono di fare un'angolatura sono da fare prima in modo che lo incolliamo il tutto sarà un pezzo già unico e magari si può anche partire proprio da questo pezzettino qui per poi costruire tutto il resto ad esempio io in questo qua, voglio fare questo qui prima di tutto e incollarlo tutti insieme come altri pezzi che sono fatti apposta per essere incollati fra di loro e che di solito quelli più grossi appunto danno l'inizio al lavoro quindi prima si fanno questi pezzettini qui che sono anche più difficili da attaccare perché una volta che io ho attaccato tutto il resto attorno e devo andare a muovere tutta la massa di quello che ho fatto io e per andare ad attaccare dei pezzettini così piccoli diventa molto difficile invece avendo un pezzettino di queste dimensioni uno lo può girare come vuole e quindi ha più velocità nel lavoro quindi prima si attaccano mi raccomando tutti i vari pezzettini cercateli tutti e non sbagliate mi raccomando non sbagliate attaccare una cosa che non deve essere attaccata invece le parti dove ci sono incisioni come ad esempio questa qui io le ho incise lo stesso anche se a volte non serve però io le incido lo stesso poi male che vada ci vedono a punta di colla allora a volte capita che nei cartimodelli ci siano degli errori errori nel senso che chi l'ha strutturato o anche il 3D stesso può avere dei problemi di conseguenza si possono trovare dei punti accavallati come in questo caso questo qui era un pezzo che era tutt'uno ma non riuscivo a capire perché c'erano dei doppi ho deciso quale dei due tagliare e poi semplicemente ho ricostruito con un pezzo di carta inizialmente ci ho messo dello scotch di carta poi ci metterò una toppetta di carta con un po' di colla e fisserò il tutto una volta che abbiamo appunto tutti i pezzi pronti attacchiamo la nostra colla a caldo la nostra pistola e iniziamo il lavoro un po' di colla